Avere la fortuna di girare in pista con l'Orican è qualcosa di speciale, ho avuto la fortuna già di provare la Imola e anche a Mijano è fantastico, il rumore, il sound e la potenza è incredibile, ma mi piace un sacco questa macchina perché puoi aggredire tanto forte e per noi, diciamo, pistaioli, piloti di, corriamo solo in pista, fai le staccate profonde, freni molto forti, questa macchina te lo permette. It was incredible, yeah, just my first time in a sports car and especially a Lamborghini, it doesn't get much better than that, so really really impressive, I've never driven a car that does everything that you request of it and the ability of the car was way above what I was able to do, so very very impressed. Obviously my passion lies in two wheels, but I love four wheels, I grew up racing on go-karts, so I have a lot of four wheel experience and would love the opportunity one day to try and race four wheels for sure. Hey, ciao a tutti, Charles Davis here, una bella esperienza con Lamborghini Huracan. Un'esperienza incredibile, appena entrato mi ha impressionato soprattutto rispetto alle moto la frenata, poi ci ho preso confidenza ma la prima frenata è stata incredibile, saluto e un ringraziamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.